Ancora una volta ritorna attuale più che mai la problematica Iussoli in Senato. Come ben sappiamo dopo la posizione della Lega, dopo quello che è stato fatto prima della pausa estiva, dove avevamo bloccato la trattazione dello Iussoli, dopo la presentazione degli emendamenti, dopo il capogruppo del Partito Democratico che aveva detto che sullo Iussoli non c'era una maggioranza e non si trovava una maggioranza, adesso a ridosso delle votazioni sulla legge elettorale, ridosso della legge di stabilità, ci troviamo l'ex ministro Lupi che si ritiene possibilista, facendo che cosa? Il solito giochetto, il solito trucchetto per ingannare gli italiani, cambiano nome da Iussoli a Iussculture, non cambia praticamente niente, però il risultato è lo stesso, tantissimi nuovi italiani, 800 mila nuovi italiani in un anno, il tutto alle spalle degli italiani veri.